Arriva con il sorriso il suo prezioso attestato fra le mani. Riccardo, 17 anni, pochi giorni fa lo ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quale gli ha conferito il titolo di alfiere. Alfiere della Repubblica, Riccardo Ianovski, frequenta il terzo anno del liceo scientifico Giovanni Battista Grassi. È nato e cresciuto a Latina da genitori ucraini e dopo lo scoppio della guerra nel suo paese di origine ha incontrato sulla sua strada Dima, un coetaneo originario proprio della stessa città dei suoi, Cermiv, scappato con la famiglia dai bombardamenti russi e rifugiato a Latina, capitato casualmente nella sua classe. Nasce così una sana amicizia, fatta di supporto e di comprensione per lui che stava vivendo un dramma. Ho aiutato dei ragazzi ucraini che sono venuti in questa scuola, in particolare un ragazzo che si chiama Dima, e l'ho aiutato a entregarsi nella nostra classe e lui si è trovato molto bene insieme a noi, infatti ringrazio molto i miei compagni e anche i professori. Tu sei nato a Latina da genitori ucraini, per cui conosci anche la lingua. Sì, io parlo il russo, parlo, non parlo l'ucraino, ma quando è venuto Dima mi ha capito ugualmente, quindi non ci sono stati problemi. Che cosa l'ha aiutato? L'ho aiutato a entregarsi fondamentalmente con i libri, col computer. Lui non era proprio di Latina Centro, quindi doveva utilizzare il pullman per venire qui a scuola, quindi anche aiutarlo a prendere il pullman, quindi le cose basilari diciamo. Tu e Luigi andate dal Presidente della Repubblica, raccontaci quella giornata. Sì, praticamente siamo arrivati lì la mattina stessa alle dieci e mezza, poi siamo entrati con i controlli e tutto, è stato davvero emozionante. Siamo arrivati in questa sala piena di luci, piena di telecamere, ci hanno fatto sedere tranquillamente, ci hanno accolti. Poi il Presidente ha fatto un bel discorso e poi nulla, ci hanno chiamato e ci hanno premiato. È stato davvero emozionante, un'emozione indescrivibile che non dimenticherò mai nella mia vita, penso. Insieme a lui, a ricevere il prestigioso riconoscimento al Quirinale, Luigi Falconi, che intervistammo qualche settimana fa. Ragazzi che hanno portato una ventata di speranza e di fiducia nel mondo che ci aspetta, oltre che tanto orgoglio alla città. Ora Dima è tornato a casa, resta nel ricordo di Riccardo e dei ragazzi della Terza G. Un ricordo fatto di solidarietà e accoglienza, di voglia di leggere positivamente questo futuro che forse noi adulti non siamo ancora in grado di rendere migliore per loro.